La sua opinione intanto qual è rispetto al fatto che questo bando atteso non si è potuto fare e quindi si sta procedendo per vie traverse? Io dico che ci sono alcuni beni che non possono aspettare e che hanno la necessità dell'apertura perché rischiano il degrado. E parlo in maniera specifica della Chiesa della Raccomandata. Se assegnare o fare una convenzione di gestione è nell'emore del bando, allora che ben venga. Ma l'importante è che sia nell'emore del bando. C'è un regolamento comunale approvato che prevede i bandi. Guai a pensare a convenzioni che si rinnovano ogni anno in eterno. Allora da questo punto di vista sono favorevole, nel senso che se questo può essere lo strumento giuridico, amministrativo che permetta l'apertura di certi beni subito, che ben venga. Non perdendo però l'obiettivo quello di promulgare un bando di tipo pubblico. Ecco, per quanto riguarda la Chiesa della Raccomandata, perché dice che rischia il degrado? Siamo anche reduci da un restauro che sarà poco tempo fa. Sì, ma all'università hanno insegnato una cosa, che tutti gli immobili, anche quelli moderni, se non vengono usati vanno in degrado. Gli immobili antichi, se vengono usati invece, resistono al degrado. Perché? Perché l'uso ricomporta la manutenzione ordinaria del bene, quindi è di ovviare sul nascere tutta una serie di inconvenienti. L'Associazione Italia Nostra è stata l'unica al momento che ha avanzato richiesta al Comune di gestione. Abbiamo detto che nessuno si sorprenderebbe se si affidasse ad Italia Nostra. Lei come dice, come la commenta questa cosa? Io, a questo punto, non posso non pensare che siamo oggetto di una discriminazione. Perché io non capisco, perché le altre associazioni, premetto, io non ho niente contro le altre associazioni, anzi sono favorevole. Qualsiasi altra associazione, dopo aver manifestato dopo un mese, viene accontentata, la Gorà, lo Sciacca che ha amminacciato di ritirare la squadra. Noi dal 2008, dalla fine dei lavori di restauro, abbiamo annunciato la nostra disponibilità a gestire questo bene e non l'abbiamo fatto solo come sezione, ma con due lettere sottoscritte dal Presidente nazionale di Italia Nostra, dove manifestava l'interesse per questo bene. Perché ne ha riconosciuto principalmente le potenzialità dal punto di vista della produzione culturale, ma anche sociale. E non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Allora io non riesco a capire questa logica. C'è una discriminante politica. Non penso che noi di Italia Nostra abbiamo mai fatto politica. All'interno della nostra associazione ci sono gente di orientamento politico di tutti. Abbiamo sempre collaborato nelle iniziative con le amministrazioni. Quindi non riusciamo a comprendere questa discriminazione o serie di quasi persecuzione. Tant'è che noi abbiamo deciso che daremo un tempo. Dopodiché passeremo a forme di protesta. A sit-in investiremo la stampa nazionale e la nostra associazione nazionale su questa vicenda.